Siamo molto contenti di presentare oggi a Parigi al congresso INCAS quattro nuovi prodotti della linea pro che vanno a completare la gamma di nuovi prodotti che abbiamo realizzato in un lavoro durato due anni e adesso abbiamo una gamma completa che va dal trattamento del ringiovanimento del viso, la epilazione piuttosto che il trattamento delle discromie e all'interno di questa gamma di prodotti completamente rinnovata il medico e il paziente potranno trovare degli strumenti che permetteranno ai professionisti di lavorare con maggior facilità, semplicità e velocità e allo stesso tempo di offrire ai loro pazienti trattamenti sempre più innovativi e molto più sicuri.